Un saluto a tutti e ben ritrovati da The World 225 e nuovamente su S4 la nostra campagna con il Chinese Empire, l'impero cinese di Pui Pui, Pui Pui, no, il senso si chiamava Suatong, Suatong perché adesso è diventato imperatore, è vero, pardon, excuse moi, imperatore, ah. Allora, riprendiamo qua con i nostri avanzati in Unione Sovietica che stiamo conquistando effettivamente il nulla, sono tutti territori siberiani, cioè non c'è nulla qua da conquistare, però la mia idea adesso era quella di arrivare tipo in questa zona, tagliare tutto e ritornare indietro, quindi ci focalizzeremo molto di più su Viola che ha fatto qualche progresso, sì, è Winter Specialist Infantry Leader Organizer, bravo, bravo, bravissimo, bravo, bravissimo. Mentre tu non sei un Winter Specialist, molto male, Falcon House, uh, Engineer, Scavenger, Capture Game, più 3%, Fortress Brasser, Enable Siege Artillery, più 20% di attacca. Yes! Falcon House, Falcon, Falcon House! Allora, qua stavamo procedendo abbastanza steady, qua cos'è la situazione qua? Ah, eh, Yorov, Cerevichenko qua, tu devi stare molto tranquillo. Tria, se quantomeno riuscissimo a intrappolare queste due divisioni, non sarebbe malissimo. Allora, tu avanza qua, tu avanzi là. E nel frattempo qua ci stiamo riposizionando, avevamo chiuso un po' che eravamo avanzati, finalmente prendendo questa città di... Alma-ata, Alma-ata, Alma-ata! Ok, qua non è più il caso di attaccare. Attendiamo che vi riposizionate come Dio comanda. Ok, qua dovremmo avere quanto meno chiuso... Ok, una divisione l'abbiamo chiusa, quindi tu... Concentrati quello sullo sterminare questo, tu stermina quello, tu... Anzi, tutti vi dovete... Piazzare lì. Anzi, tu ti cancelli proprio così che non... Ti prenda strane idee. Ok, però... Tu... E tu fate così. Me lo uccidete, tu invece... Mi passi qua in mezzo e una divisione l'abbiamo sterminata. Allora, l'obiettivo sarebbe... Questi sono i famosi Urali, non sono così distanti dagli Urali. Il nostro obiettivo è laggiù, quindi Falkenhausen... Go! Falkenhausen, go! Falkenhausen, go! Falkenhausen, go! 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 Ok, qua ci stiamo riposizionando. Qua purtroppo c'è... Ah, si può attaccare da qua. Non penso che saremo in grado di fargli molto danno. Ah, però, no. Invece riusciamo a fargli parecchio danno. Falkenhausen, Falken, Falkenhausen. Riuscissi a dire a te di... E anche a te di far così, riusciremo a... Pochettare altre divisioni. Qua ce ne sono parecchie, a quanto pare. Sì, ce ne sono molte divisioni lì. Ok, tu... Anche potresti... Lanciare l'offensiva a sto punto. Inffensiva invernale, molto fredda. No, niente, qua non ce la facciamo a fare il pocket ancora. E' inutile. Riposizionate le vostre divisions. Qua adesso siamo in parecchi. Ad esempio, qua tu dovresti poter tranquillamente attaccare. Stesso vale per te. Con il supporto anche dei mountaineers. E siamo a posto. Abbiamo bisogno di un po' di heavy tank. Perché non abbiamo... Dobbiamo smetterla di produrre heavy tank. Perché sennò... Poi andiamo in deficit. Perché ovviamente si rompono, si sfasciano. Non sono manco ancora arrivati a destillazioni che già hanno subito danni, guasti. Dovremmo aver subito un po' di attrito. Andiamo a vedere il libro. Delle perdite. Equipment. Ah no, 8. 8 carri da attrito abbiamo perso. Praticamente da... A guidare sulle strade di montagna i nostri tiger si sono sfasciati. Bene. Good job. Allora, qua ho capito che le offensive le devo sempre gestire io. Perché sennò... Allora, qua stiamo avanzando molto molto bene. E tu... Diciamo che tu sei sempre l'addetto... L'addetto... Alla pulizia di questi territori. Se noi subiamo attrito anche voi subito attrito. È la strana legge dell'attrito. Ok. Ok, tutti subiamo attrito qua in Siberia. Quindi una guerra pari. A darmi pari. Ok. Improved artillery. Non possiamo ancora però ricercare... Possiamo ricercare la Uber Advanced Artillery. Advanced. Sarebbe molto goloso anche avanzare. Sarebbe anche molto goloso. Ok. Qua tu stai già avanzando. Vediamo se riusciamo ad avanzare anche qua. Apparentemente sì. Qua no. Alto là il sudore. E qua mi piacerebbe sempre molto fare un bel pocket. Ok, tu supporta magari questo attacco così dargli una mano. Engineer Company. Yes. Cerchiamo l'Engineer Company qua. Andiamo a modificarle e metterle un po' nelle nostre divisioni. Visto che i nostri carri... ...hanno serie problemi. Mettiamo la Logistic. Mantenimento. Mantenimento. Engineer. Save. Poi andrei su... Tu. Tu 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 mi piaci tu. Compagnia di manutenzione. Che riaffidabilità. HP. Equipo in draccio. Vabbè. Adesso mettiamola poi vediamo. Dovremmo starci dentro comunque. Ok, qua tu puoi avanzare tranquillamente. L'obiettivo è davvero chiudere le più divisioni possibili in Siberia. E una volta che le abbiamo chiuse farla finita con queste divisioni avanzare verso gli orali per l'estate. Almeno questo è il mio piano. Questo è il mio grande piano. No, qua sei stordito perché insisti nel voler attaccare zone a te non congeniali. Qua li abbiamo battuti. Abbiamo vinto! Lì potremmo vincere. Ok, lì li abbiamo già battuti. Era la mossa che volevo fare. Attacca. E qua sono parecchie divisioni. Andiamo per... Tank plants. Vabbè, è ora di fare le tank plants. Che non sono le piantaggine di carri armati, ma... Ok, riuscissimo a... Fargli di nuovo credere che possono avanzare nel nostro territorio senza... Colpo ferire. Ok, stiamo avanzando su tutta la linea. Molto bene. Ok, qua mi piace. Togliamo la nebbia che mi crea disturbo. Non c'era la nebbia. Ok. Mentre c'è il mattino e il giorno. Che mi piace ogni tanto mettere il mattino e il giorno. Quando gioco da solo, soprattutto a velocità più bassa, lo metto spesso. Il mattino... Così ci fa capire quando è tempo di... Ad esempio attaccare alle 24 hai un malus della madonna. Però rendo conto che può dar fastidio agli occhi di chi guarda. Quindi lo disattivo. No, qua non è il caso più da attaccare. Fermo l'offensiva anche di ciccio bombolo lì, perché... Ok. Vai, infilati bravo. Continua ad andare in giù. Sarebbe davvero il top se tu riuscissi a... Bene. Almeno gli fottiamo una... Can pierce this division? C'è una corazzata di carri, no? La nostra non può essere perforata. Succa. Succa bliat. Succa bliat. Ok. Ok. Stiamo cercando di fare il piano. È sempre quello. Ok. Stiamo avanzando bene. Tu sei... Ci metti in eternità andare in quei territori. Ok. Stiamo avanzando nella steppa. Disregarding loss. Allora, qua direi che è il tempo di... Provare a fare un pocket. Ok. Il problema è far stare dietro le divisioni alla nostra avanzata. Non è facile. Qua abbiamo altre cinque divisioni. Vediamole qua. Tata, 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 tata. Dai, suini. Anche qua non stanno andando bene le cose. Eh, nuovi Sibirsk. Qua siamo rimasti troppo lenti a fare... Dai, ma stavi vincendo nettamente qua. Mannaggia te. Allora, guada sto fiume di merda. E vai a Cagnoscara lì. Dai. Tu supporta questo attacco. Dovremmo riuscire a pochettarne il più possibile. Niente, dobbiamo attendere. Qua vanno i crucchi. I crucchi sempre fermi agli stessi punti. Qua tutto fermo. Lola di nuovo sul fronte orientale. Febbraio del 43. Eeeh. Brutta storia. Dai, ho bisogno di questo spazio di manovra. Per circondare queste divisioni qua, dai. Ok. Bisogna che teniate il passo. Tenere il passo. Oppa. Ok. Non si evolvono bene queste battaglie. Ho visto il calare, infatti. Niente. Ferma tutto. Alto l'also d'ore. Tu stai fermo qui. Dai, dobbiamo essere rapidi. Via. Push, push, push. Questo dovrebbe essere un altro pocket. Ok, qua ce l'abbiamo fatta a salvarla. Ok. Dai, dai, che ce la facciamo. Te lo abbassano queste due province. Ok. Blocca tutto. Blocca il signore. Blocca il signore. Blocca il brutto signore. Iniziamo a dare un'offensiva. Iniziamo a dargli una botta. Poi qua sarebbe da farne un'altra. Trung. Ok. Qua dovremmo averla meglio. Dai, quanto ci mettono? Dai, porca miseria. Devo c'è una mossa. Ma non me ne faccio niente di sta gente. Warbonds. Va, facciamo censura. In ogni caso devi pushare più avanti possibile. Bene. Benissimo. Push. Non è questione di se o quando. È questione di pushare adesso. No, 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 no. Fermo, fermo. Non è questione di quando e perché, ma è questione di chiudere. È questione di concretizzare adesso. E anche qua è questione di concretizzare. Boom, bitch. Ok, altri sovietici che muoiono nel nome della... Rodina! Da Rodina! Da Rodina! Adesso ci sta mettendo una vita. Preparate che ci metta passione. Mettici passione in quello che fai. Importante è la passione. Qua non succede più nulla. L'Italia sta scendendo giù in Libia. Cattivissima l'Italia. È stata questa partita. L'Italia cattiva. Sono anche... No! Veloce, chiudi lì. Chiudi. Bastardi. Ci provano loro. Volevano uscire. Perché ti stai ritirando tu? Allora, tu adesso puoi far così. Boom. E cerchiamo di... Fare una cosa di questo tipo. Almeno ci proviamo. Questo è il nostro obiettivo. Puoi riuscirci... Motorizzate. Diamo le... Sempre al buon falche. Ok, in teoria mica è stato un... Brutto sogno, ma... Abbiamo evitato il peggio. Ok, se... Si stava rischiando il tracollo. Boom, 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 boom. Oh, i tedeschi lanciano un'offensiva. Era ora. Che stiamo facendo tutto noi. Qua c'è una sacca. Non so per quale motivo. Non so per quale assurdo motivo. Ok. Tempo di chiudere. Chiudere baracca e burattini. Dov'è la... Qua la... La zona più... Più secca, tra virgolette. Che meno... Meno zone. Eh, ce ne sono parecchie di visioni. Comunque, oh, finalmente. Decryption, per cortesia. Bisogno del decryption. Se no, sto male. Eh, c'è in Isenpire. Inizia ad essere scritto bello grosso. È forse più di Germain... Anzi, sicuramente più di Germain Reich. Quasi come... United States e dominio Brasil. Brasil, vabbè Brasil però vuole due di picche. Dobbiamo arrivare a lasciare giù. Ok, qua abbiamo chiuso il pocket. Adesso sicuramente qua hanno spostato delle truppe per... Andare a copiare i buchi che li abbiamo fatto. No. Cosa mi rappresenta? Ok. Qua dovrebbero essere tutti eliminati. Perché si sono sovrapposti... I fronti. Bella domanda. Oh Siberia, oh Siberia, oh mia bella Siberia. Oh, qua ci sono delle divisioni dentro. Ok, pensavano di scappare. Pensavano... Questo non è un bel gesto da parte tua però. Non è affatto un bel gesto. Ok, qua abbiamo pulito il pocket. Vai lì. Dai, levati. Ci sono i carrier... Winter expert. Tutto expert lui. Dai expert. Ok. Anche le tue divisioni devono andarsi tutte a unire laggiù. Io direi che puoi ridurre un po' il tuo fronte... No, ho sbagliato. Sì, volevo allargare il verde ma non volevo... Tre virgolette... Ok. Volevo fare questo. Ok, tank plant. Ottimo. Ok, ma abbiamo quasi finito. Conquer Tibet. Indian Comparation. Vabbè. Con le... Ne facciamo le fattorie collettive. I cinesi rimabbono il riso. Tanto l'iso, l'iso, l'iso cantonese. L'iso cantonese. Ok. L'iso, l'iso cantonese. Tanto l'iso la cantonese. Per voi qua... Direi che con il supporto di questi non è un problema attaccare. Questa insubordinazione totale. la Germania avanza? Va, riga tanto. Sono sempre lì che battagliano, ma... Qua sono riprese le schermaglie a porto. Germania è che vuole che join la fazione a sto cazzo. non ho ancora intenzione. Non ho ancora intenzione. Avete capito niente. Feccia bolshevica. Ok, qua sono altre due divisioni. Sì, altre due divisioni. Divizia, divizia. Ok. Divizia, divizia. Mi sarebbero prima noi a Mosca dei sovi dei tedeschi. Sarebbe grave, però. Sarebbe molto grave arrivassimo prima noi a Mosca rispetto ai tedeschi. Questo è un buon pocket se viene fuori. Però non si attacca di lì, amico mio. Ho sbagliato io. C'era il fiume. C'era il fiume, ho sbagliato. Dai, ho sbagliato. Tu vai a dare la mano. E qua riuscissimo a farlo accadere. Non accade, ma se dovesse succedere. Non succede perché quale oltretutto hanno la via di fuga, però. Dai, su via. Non romperci le palle. Muori. Allora, nuovi armamenti. Cerchiamo i Marines. No, perché mi metto a ricercare cose che non mi servono? Ok. Grazie. Grazie.